Colapesce, dedicato a Michetta, è uno spettacolo dove c'è dentro tutto, c'è la Sicilia, c'è il mare, c'è il sole, c'è la musica, c'è la danza, c'è tutto. Sta piovendo anche adesso, continuiamo a bagnarci. Allora, in questo spettacolo io sono la madre di Colapesce, una madre, diciamo, molto amorosa, come quasi tutte le madri siciliane, una madre che a tratti sembra anche una maga. Il lavoro che è stato fatto per rendere questa madre più, come dire, sanguigna possibile è un lavoro sul movimento, sul, quello diciamo che abbiamo chiamato scrittura fisica, che si ispira molto alle danze popolari, ma anche a delle danze tribali. Quindi è un lavoro che sempre nasce in improvvisazione, si è creato questo linguaggio tra il figlio, tra Colapesce e la madre, che è un linguaggio fatto di segnali, di segnali anche un po' ancestrali, di movimenti, di magia, che ci portano e ci fanno tuffare dentro il cuore della leggenda di Colapesce. Grazie.